Eruzione in Indonesia del famoso vulcano chiamato Vulcano Merapi. Ci sono state delle valanghe di gas e nubi di tipo incandescente con la conseguente lava le quali hanno costretto le autorità a bloccare ogni tipo di attività a livello turistico molti sono coloro che si regano proprio nell'isola di Java per vedere o meglio per assistere e prepertare attività di tipo minerario in loco. Ci sono state queste spettacolari eruzioni di lava, gas, caldo, roccia, lava incandescente che hanno percorso circa 7 o poco più chilometri. La eruzione si è alzata fino a 100 metri e non ha causato vittime per fortuna né tanto meno eventuali feriti. La popolazione è stata costretta a stare a chilometri di distanza la montagna è alta più di 2000 metri e in qualche modo è una delle attrazioni forse più belle proprio dell'isola di Java, ci troviamo in Indonesia. Vi ricordo infatti che è il mental di turismo, un turismo forte, incredibile anche perché comunque è un posto piuttosto rinomato. Iscrivetevi al canale Narratore Italiano Comunitare Un saluto nel carabuio e al prossimo video.